Musica Ultima edizione del telegiornale di Telemolise, buonasera e buon ascolto sull'onda dell'indignazione provocata dallo scandalo della regione Lazio anche in Molise. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo su come i gruppi consigliari della regione spendono i soldi erogati per l'attività politica. Un'indagine coordinata dal sostituto procuratore Nicola D'Angelo per la quale non ci sono al momento indagati. Oggi gli agenti del GICO della Guardia di Finanza hanno acquisito atti relativi alle spese sostenute dai gruppi negli ultimi tre anni. In apertura Giuseppe Lanese. Sono le 14 quando i quattro finanzieri del GICO escono dalla sede del Consiglio regionale di Via Crispi a Campobasso con in mano un faldone pieno di documenti. In testa il comandante Vincenzo Bontiempo, cinque ore di lavoro per gli uomini del gruppo investigativo Criminalità Organizzata delle Fiamme Gialle per passare a setaccio tutte le carte sui fondi erogati ai 17 gruppi consigliari del Molise. Al momento non c'è nessuna ipotesi di reato ma la procura di Campobasso intende andare a fondo per scoprire eventuali irregolarità nelle spese di quelle risorse. Sotto la lente di ingrandimento gli anni che vanno dal 2009 al 2011 ma l'indagine potrebbe interessare anche altri periodi. I locali presi di mira dalla Guardia di Finanza sono quelli di Via Crispi, sede della ragioneria regionale. I militari si sono presentati alle nove, tre di loro erano in borghese, sono entrati nella struttura mentre la macchina delle Fiamme Gialle è rimasta ferma nel parcheggio fino al termine dei controlli. I finanzieri hanno recuperato i documenti dall'ufficio segreteria del Consiglio e poi sono saliti al piano superiore per valutare quali carte acquisire. È giusto che un'indagine che si svolge in tutta Italia tocchi anche il Molise, ha commentato il presidente del Consiglio regionale Mario Pietracupa. Da parte nostra c'è la massima collaborazione aggiunto perché in questo momento la gente ci chiede trasparenza e di mettere al bando gli sprechi. L'indagine è conoscitiva, disposta dal PM della Procura di Campobasso Nicola D'Angelo segue il filone delle inchieste sugli scandali relativi alle spese dei gruppi consigliari scoppiati in varie regioni italiane. Ad aprire il vaso di Pandora sugli sprechi è stata l'inchiesta sul caso fiorito nel Lazio che si è poi allargata a macchia d'olio in tutta Italia. Ora gli occhi sono puntati sul Molise anche se dalla regione ci tengono a precisare di nuovo come sia già arrivata una bella sforbiciata ai costi della politica con la norma che ha ridotto il numero di consiglieri da 30 a 20 e con quella che ha abolito i vitalizi per i consiglieri regionali. Questa dunque è la cronaca di quanto accaduto in giornata, peraltro a quanto ci è dato sapere la finanza potrebbe aver bisogno di altri documenti per valutare la regolarità dei rendiconti, ma intanto cosa pensa la gente comune di questo particolare momento in cui i politici sono al centro delle polemiche? La crisi economica, ma ancora di più gli scandali della classe politica che negli ultimi tempi attanagliano l'Italia, stanno mandando su tutte le furie i cittadini. Giovani, adulti ed anziani sono uniti in un unico coro. Bisogna dire basta ai privilegi dei politici che da anni mangiano sulle spalle della povera gente. È l'ora di cambiare ormai. O non andiamo più a votare tutti, o prendiamo le schede elettorali tutte, ma li dobbiamo bruciare tutti quanti, perché ormai non abbiamo fiducia più di nessuno. Perché qua o ci va la destra o la sinistra, quell'altro, tutti uguali. Sono tutti, pensano solo per loro. La realtà è una che noi non ce ne accorgiamo. Questi viaggiano su miliardi del popolo. Qui in Italia, purtroppo, stiamo affrontando una crisi e da parte di tutti quanti bisogna dare supporto a questa crisi e quindi anche i politici dovrebbero pagare. Con tutto questo scandalo che sta in giro, che vediamo per televisione, ci meravigliamo perché uno che ha una pensione di 800 euro, e quelli che prendono tanti soldi, che non si sa da dove escono e da dove entrano. Però questo scandalo è una cosa che ci rabbrividisce. Oggi hanno messo mano il Molissio, che era ora, ma ero in tutte le regioni. Qua non devono aiutare le province, devono mandare a casa questi signori. Sono troppi i privilegi e i vantaggi della classe politica, per non parlare dei loro stipendi, hanno commentato i cittadini intervistati. Secondo lei quanto dovrebbe essere lo stipendio dei politici di un consigliere regionale? Come quello di un operaio. 1.500 euro al mese. Non di più. Secondo me ci dovrebbe essere uno stipendio molto minore da parte dei politici. E' uguale a quello nostro, 1.200, 1.300, perché loro non è che lavorano più di noi, loro lavorano, lavoriamo più noi che loro, quindi lo stipendio andrebbe bene come quello nostro. 4.000 euro è più che sufficiente con le spese comprese. Quello che merita, c'è pure il politico che merita soldi perché fa politica, ma qui c'è gente che la politica non la fa, vanno lì solo per sedersi e prendere i soldi. E intanto il Consiglio regionale tornerà in riunione sabato prossimo, 13 ottobre, con due argomenti all'ordine del giorno in agenda. Il rendiconto per l'esercizio finanziario 2011 e l'assestamento di bilancio 2012. Ora la pagina politica con la tappa molisana di Matteo Renzi, il sindaco di Firenze in giro con il suo camper per la campagna elettorale delle primarie del Partito Democratico. Renzi ha fatto il pienone nella sala di Campobasso e ha evitato qualsiasi dichiarazione polemica nei confronti dei vertici del partito. Alle provocazioni ha detto, rispondo con un sorriso. C'era per noi Piacentino Salati. Tanta gente ha accolto Matteo Renzi anche nel Molise, a Campobasso e di Sernia, nelle due tappe della nostra regione. Le province toccate dal sindaco di Firenze, che sarà candidato alle primarie del centro-sinistra nel fine settimana per riproporre i suoi temi. Nessuna polemica con i vertici del partito dopo l'assemblea nazionale di sabato. Accolgo tutti con il sorriso, non ho nessuna intenzione di polemizzare. Insomma, Renzi è andato dritto sui temi della sua campagna per le primarie, una campagna autofinanziata, dove non c'è polemica, ma ci sono soprattutto proposte. Uno sguardo al futuro, un futuro che deve riguardare anche la nostra regione. Matteo Renzi si è soffermato rapidamente con i giornalisti nel suo incontro di Campobasso per andare subito ad incontrare la gente in una sala gremita. E lì ha appunto illustrato i temi della sua campagna. Ma ascoltiamo alcune dichiarazioni rese al suo arrivo a Campobasso. Sono soddisfatto soprattutto di quello che sta succedendo nelle piazze, tra la gente oggi qui a Campobasso, come a Foggia, come a Matera, a Potenza, in generale in tutta la Puglia e la Calabria in questi giorni. Cioè, io non sono tanto interessato alla discussione interna del partito sulle regole. Sono molto soddisfatto del fatto che tanta gente torna a far politica, che torna a occuparsi e impegnarsi della cosa pubblica. E questo uomo di 37 anni che fa il sindaco di Firenze ed aspira a governare il paese a Campobasso ha parlato di futuro, Europa e merito. Ad una platea numerosa di sostenitori, certo, ma anche di esponenti del PD vicini alle posizioni del segretario Bersani, di semplici e curiosi. Alla fine dell'incontro, nonostante la stanchezza e prima di risalire sul suo camper, Renzi ha ancora risposta a qualche nostra domanda. Nell'assemblea si è parlato di pace, ma c'è stata mai guerra in questo partito? Io penso che ci sia pace, penso che ci siano idee diverse, ma ci sia anche la libertà e il confronto democratico di potersi serenamente incontrare e parlare. Quindi l'assemblea bene, adesso vinca il migliore, vincerà quello che sarà più credibile agli occhi degli italiani. E per quanto riguarda invece il Molise, ovviamente questo è un tour che tocca anche le province, che cosa ci si può aspettare di nuovo a livello regionale? No, non credo, non sono molto convinto che questo progetto del governo andrà in porto. Il problema non è tanto la fusione delle province, il problema è una riorganizzazione dello Stato. Spero che si facciano le cose per bene e vediamo se lo farà questo governo il prossimo. E sono soddisfatti gli organizzatori del Turmo Lisano di Matteo Renzi, in particolare Micaela Fanelli commenta anche la provincia di Isernia, ha detto sì a Matteo Renzi, l'entusiasmo cresce, il messaggio del sindaco di Firenze di forte e convinta apertura alle realtà territoriali ai giovani sta facendo riaccendere la voglia di partecipazione e ridisegna un futuro finalmente diverso, ha detto il sindaco di Riccia. Questa classe dirigente è datata e il messaggio di Renzi sta arrivando fortissimo. ha concluso la Fanelli che ha anche elogiato le parole dell'assessore di Agnone Maurizio Cacciavillani sulla forte motivazione dei giovani amministratori molisani. Soddisfatto anche il rappresentante del guerriero Sannita Giovanni Muccio, la presenza di Matteo Renzi nel Molisi ha infiammato il cuore di tantissime persone. Ormai deluse da questa politica del dire e non del fare, l'onda di Renzi ha concluso Muccio. spazzerà via posizioni consolidate di coloro che pensano che nulla potrà cambiare. Cambiamo invece argomento. A Isernia torna a infiammarsi il clima politico dopo l'intervento dell'ex sindaco Gabriele Melogli che ha di nuovo attaccato il commissario Vardè responsabile a suo dire del malgoverno della città. Ce ne parla Enzo Di Gaetano. Gabriele Melogli è un fiume in piena. Il comune di Isernia dopo di lui sta distruggendo l'economia cittadina. In particolare l'ex sindaco ce l'ha col commissario Tino Vardè che ha trovato la sua personalissima ricetta per rispettare gli equilibri di bilancio. Non pagare nessun fornitore. Così però la città di Isernia va verso il declino. Io critico l'atteggiamento che si sta avendo nei confronti dell'economia isernina. Cioè noi abbiamo fatto tanto per rilanciare questa città e penso che, non solo io, ma insieme alla Giunta, insieme al Consiglio Comunale io penso che eravamo riusciti a fare qualche cosa. Io vedo qua nella città di Isernia ci sono tutti i negozi che chiudono e c'è una situazione di un malessere generale. E' un malessere generale che è molto più accentuato di quello che si avverte in altre parti d'Italia perché la crisi c'è dappertutto. Noi ci rendiamo conto che la crisi c'è dappertutto. Però se tu non paghi gli imprenditori locali gli imprenditori locali non pagano i loro dipendenti e c'è una situazione di depressione generale per cui anche chi ha qualcosa in tasca non la spende. Questo comporta la fine di tante attività commerciali e questo Isernia non lo merita. Già è stata penalizzata con la soppressione della provincia un'altra cosa semplicemente inutile perché dire che è inutile sopprimere la provincia di Siena e dannoso per la nostra realtà è poco. Cioè togliere la provincia di Siena, di Firenze, della Spese non cambia nulla perché che cosa volete che sia? Cioè là ci sono altre realtà economiche, ci sono altre istituzioni. Ma per noi è vitale che ci sia la provincia perché perdere la prefettura, la questura, la guardia di finanza significa perdere 300-400 famiglie. Poi alla fine la guardia di finanza è andata a Palazzo Orlando ha visto che lì almeno... Ma insomma adesso qua le cose che ho avviato anni addietro alla fine arrivano a conclusione. Noi avevamo fatto già tutto, avevamo parlato spesso con il generale d'Apolloni o anche con il generale della guardia di finanza di Campobasso avevamo già concluso, avviato il percorso si deve concludere soltanto, non so se è stato fatto il contratto di locazione ma mancava soltanto la firma alla fine. Cioè le cose che abbiamo fatto, per fortuna una buona parte stanno andando avanti. Come l'auditorium per esempio, tanto criticato ma oggi se non ci fosse stato l'auditorium un convegno internazionale come questo voglio sapere dove si faceva i segni. Ci sarà una manifestazione domani a Senigallia dei balneatori italiani per denunciare il blocco degli investimenti a causa dell'inerzia del governo che tarda a legiferare sulla direttiva europea che dal 2016 prevede la scadenza delle licenze che verranno perciò messe all'asta. Sentiamo Manuela Iorio. A 24 ore della manifestazione di Manfredonia contro le trivellazioni a largo delle isole Tremiti gli affari intorno al mare tornano a far discutere. Questa volta la protesta è quella dei balneatori che è incostatata la lentezza dell'Italia che tarda a legiferare sulla direttiva Bolkestein. domani alle 11 parteciperanno a un corteo a Senigallia con l'obiettivo di sensibilizzare il governo. Parteciperanno istituzioni e politici tra cui il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro che ha già dato la sua disponibilità. La direttiva prevede la scadenza delle licenze che verranno messe all'asta entro il 2016 senza favorire chi fino a quel momento ne è stato titolare e ha fatto investimenti. Pietro D'Andrea della FIBA Confesercenti denuncia proprio questo e l'impossibilità per i balneatori di poter rinnovare le strutture e fare investimenti nei prossimi quattro anni visto che i lidi nel 2016 potrebbero non essere più loro. L'intento della manifestazione è dunque anche quello di mostrare al governo il blocco degli investimenti. La protesta è in concomitanza con l'apertura della fiera San di Rimini dove 50 imprese di servizi del settore e l'intero mondo degli operatori turistici balneari hanno deciso di non esserci. Insomma, all'appuntamento italiano di maggior richiamo per il comparto non ci saranno concessionari demaniali. Un chiaro segnale al governo a cui ora passa la palla. Intanto non molla il Comitato per la difesa del Santissimo Rosario nonostante la sentenza contraria del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar Molise l'avvocato Alfredo Ricci difensore del Comitato si dichiara fiducioso. Ancora Enzo Di Gaetano. Il Comitato in difesa del Santissimo Rosario non perde le speranze di poter salvare l'antico plesso ospedaliero venafrano dai tagli disposti dal subcommissario Basso. La brutta notizia però è che il Consiglio di Stato ha di fatto bloccato il ripristino dei servizi disposto a suo tempo dal Tar Molise. Però il Comitato in difesa del Santissimo Rosario non perde tutte le sue speranze. Non è esatto che il Consiglio di Stato abbia ribaltato tutto e abbia dato ragione alle scelte dei tagli sull'ospedale di Venafra. Il Consiglio di Stato ha ribadito l'efficacia e l'esecuzione della sospensiva del luglio del 2011 ha fatto presente che quella sospensiva non è stata eseguita ha soltanto ritenuto che in vista dell'udienza di merito sia opportuno allo Stato lasciare tutto com'è cioè evitare il ripristino onde poter valutare nel merito le questioni che sono oggetto del giudizio. Quindi la questione è tutta aperta. Però è uno stop all'idea di reintegrare i servizi sospesi? È uno stop al ripristino nell'emore dell'udienza di merito ma è una conferma del fatto che non poteva toccarsi nulla e che comunque ad oggi non può toccarsi nulla perché quell'ordinanza di luglio si è ribadito che deve essere eseguita. Intanto già si preannuncia che il piano di basso prevede proprio il taglio totale dei servizi a Venafro resterebbe solo un pronto soccorso. Se lo fa basso poi a quel punto è possibile un ricorso? Quando ci sarà l'atto lo leggeremo e lo valuteremo. Si terranno domani nella chiesa di San Giovanni Battista di Colletorto i funerali di Ubaldo nato agricoltore di 66 anni morto in un incidente nei campi a Ciarlantino vicino al lago di Occhito la vittima era alla guida di una pala meccanica che si è capovolta schiacciandolo come faceva spesso era andato a lavorare su un terreno di sua proprietà quando sul luogo della tragedia sono arrivati i soccorsi l'uomo era già deceduto. Più di 100 giorni di attesa per i pagamenti alle piccole e medie imprese che forniscono servizi alla pubblica amministrazione un'anomalia tutta italiana visto che l'Unione Europea ha fissato il limite massimo per l'erogazione dei pagamenti dovuti a 60 giorni al sud va ancora peggio sentiamo ancora Giuseppe Lanese Non è solo la crisi economica a creare problemi alle imprese italiane molte aziende infatti sono in estrema difficoltà a causa dei ritardi nei pagamenti da parte di privati e pubblica amministrazione l'Italia da questo punto di vista è agli ultimi posti in Europa con ritardi che al sud superano i 112 giorni tanto deve infatti aspettare un'impresa che fornisce servizi alla pubblica amministrazione per poter incassare il dovuto per quanto riguarda i pagamenti dei privati i tempi di attesa al sud sono di 76 giorni l'indagine nazionale di fondazione impresa che ha effettuato un'analisi di 1200 attività con meno di 20 dipendenti a soffrire di più dei ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione sono il settore sono il settore artigianato con 127 giorni e quello delle piccole imprese manifatturiere con 121 giorni ma dall'indagine emerge anche come la politica delle stesse imprese creditrici stia cambiando quasi tutte stanno avviando azioni per ridurre i tempi di incasso la piaga dei ritardi nei pagamenti colpisce anche diverse imprese molisane molte delle quali rischiano di chiudere l'auspicio affermano i ricercatori di fondazione impresa è che la direttiva europea sui tempi di pagamento trovi piena applicazione anche in Italia il testo stabilisce 30 o al massimo 60 giorni per il saldo del servizio offerto dalle imprese esattamente la metà di quanto atteso oggi una risposta necessaria poi concluso fondazione impresa per risolvere il problema di liquidità delle piccole aziende che insieme alla recessione stanno mettendo a dura prova la loro sopravvivenza disoccupazione precariato il lavoro nero femminile sono stati i temi discussi nel corso di una riunione a Termoli della Lega Sanità in Basso Molise la disoccupazione femminile in Molise è in aumento i dati ha denunciato Lorenzo Lommano sono allarmanti ma quasi nessuno ne parla la classe politica regionale deve affrontare di petto un problema che ha concluso l'esponente della Lega Sanità Lommano se non si risolverà il più presto porterà molte famiglie alla rovina in una riunione in piazzetta Palombo tre consigliere comunali di Campobasso hanno firmato un protocollo per la nascita di un nuovo coordinamento civico in questo modo saremo più vicine a tutti i cittadini hanno detto il coordinamento avrà anche un blog e una pagina Facebook sono Adriana Izzi Marilina Niro Maria Laura Cancellario e allora sentiamole in questa intervista più vicinanza ai problemi dei campobassani e più democrazia da un lato meno sprechi e meno discussioni inutili dall'altro sono i punti base da cui è partito il nuovo coordinamento civico l'ascolto di Campobasso capeggiato da tre consiglieri comunali un gruppo tutto al femminile che va oltre i colori politici e che non vuole assolutamente creare nuovi soggetti o forze politiche l'iniziativa mira infatti a tutelare il bene comune e a ripristinare un dialogo positivo con i cittadini il punto che ci accomuna ascoltare la gente per eliminare la cesura sempre più forte tra i cittadini e quelli che vivono nelle stanze il livello comunale territorialmente è fondamentale noi siamo diverse abbiamo appartenenze diverse e ci accomuna lo spirito civico di provare a ridare a questa città un senso risolvendo o provando a risolvere i problemi concreti che i cittadini quotidianamente manifestano tra gli obiettivi del gruppo fondamentale la riduzione della spesa pubblica che può essere attuata in molti modi per noi si può risparmiare per esempio sintetizzando sugli argomenti all'ordine del giorno e convocando una commissione che concentri più argomenti o che abbia una seduta a fiume di 6 ore e di 5 ore con un unico gettono di presenza oppure stabilire che in un'unica giornata più commissioni non prevedano più gettoni di presenza le soluzioni sono tante purché rimanga vivo il dibattito democratico ed è questa la funzione delle commissioni noi siamo assolutamente d'accordo con il principio del risparmio e della spending review Campobasso deve diventare un comune virtuoso e il coordinamento l'ascolto cercherà di aiutare il capologo di regione in questa attività per far ciò il gruppo si riunirà un giorno a settimana molto probabilmente il giovedì dalle 17.30 alle 19.30 proprio in comune dove incontrerà i cittadini che vorranno confrontarsi e dialogare tra gli ulteriori obiettivi dell'ascolto la messa in sicurezza di tutte le scuole campobassane chiederemo proprio in consiglio di appostare delle cifre sufficienti proprio per far sì che nella prossima estate tutte le scuole di Campobasso vengano messe in sicurezza e a Campobasso è ormai diventata il simbolo della protesta generalizzata contro l'amministrazione comunale stiamo parlando di Piazza Pepe fino a poco tempo fa parte centrale dell'isola pedonale del centro cittadino e ora invece tornata a dominio incontrastato di auto e soste selvagge le sperimentazioni annunciate da Palazzo San Giorgio e dal sindaco sono rimaste nei cassetti nessuno sa il risultato delle indagini condotte su sosta incassi dei parchimetri e scorrimento del traffico la protesta dei comitati si è svolta proprio in piazza per sollecitare un nuovo intervento di Gino Di Bartolomeo questa volta dicono a difesa degli interessi di tutti i cittadini e non solo di pochi commercianti quelli che hanno le attività proprio in piazza Pepe nella parrocchia di Santa Maria della Pace di Fragnete frazione di Isernia è arrivata l'ampolla con il sangue del beato Giovanni Paolo II la reliquia resterà esposta fino a domenica sentiamo al santuario di Santa Maria della Pace di Fragnete i fedeli stanno vivendo un'altra intensa esperienza di fede in questi giorni e fino a domenica la parrocchia della frazione di Sernia accoglie l'ampolla con il sangue del beato Giovanni Paolo II un papa indimenticabile che con la sua forza e il suo coraggio ha lasciato una grande eredità spirituale e cattolici di tutto il mondo la reliquia è stata naturalmente accolta con grande gioia ed emozione dai fedeli per noi questo è un grande privilegio perché nella nostra chiesa entra un bene preziosissimo ha detto il parroco Don Domenico Veccia e di questo i fedeli ne sono molto consapevoli e aprendosi l'anno dedicato alla fede abbiamo cercato nel nostro piccolo anche se è una parrocchia piccola di campagna di poter avere le reliquie del beato Giovanni Paolo II in questa nostra piccola parrocchia e speriamo nella fede che il Signore ci accompagni per la vita a tutti e che i fedeli siano molto presenti in questi giorni il reliquio resterà in questa nostra parrocchia di Santa Maria della Pace in Fragnete fino a domenica prossima e chiunque potrà vorrà venire a salutare il beato a dire una preghiera a un Ave Maria per gli ammalati i sofferenti tutte le persone che hanno bisogno e anche chi sta bene che nella vita noi tutti prima o poi avremo bisogno delle preghiere la messa è stata celebrata da Don Paolo Mazzoleni che ha così festeggiato il suo decimo anniversario di ministero sacerdotale l'ampolla è collocata in una scultura a forma di libro su una pagina è riportata una delle frasi più celebri di Giovanni Paolo II non abbiate paura il sangue fu prelevato negli ultimi giorni di malattia del pontefice in vista di un'eventuale trasfusione ma l'aggravarsi delle condizioni del Santo Padre rese tutto inutile l'anno scorso in occasione della sua beatificazione due contenitori sono stati collocati in altrettanti leriquari conservati in due chiese di Roma ma in questi giorni anche i fedeli molisani hanno la possibilità di raccogliersi in preghiera nel ricordo di un uomo Karol Wojtyla semplicemente straordinario Cambiamo argomento a Larino è stata presentata la 270esima edizione della Fiera d'Ottobre e tante le novità di quest'anno tra cui una rievocazione storica e una serie di convegni a tema con un po' di ritardo rispetto agli altri anni ma si farà la Fiera d'Ottobre di Larino non poteva mancare all'appuntamento della 270esima edizione prevista dal 10 al 14 ottobre slittando di una settimana sulla tabella di marcia a causa del ricorso presentato da una ditta contro la Unicom a cui il Comune aveva dato l'affidamento diretto per due anni ora però con la sospensiva del Consiglio di Stato si parte con tante novità la prima è un catalogo della Fiera stampato in 20.000 copie con tutti i particolari e gli approfondimenti su alcuni espositori che quest'anno sono circa 200 per lo più molisani ma anche campani abruzzesi piemontesi una vetrina non solo per gli imprenditori ma anche per le bellezze architettoniche di Larino quest'anno ci sarà una fiera che è anche più bella rispetto a quella degli altri anni organizzata in maniera diversa come logistica interna del campo sportivo ci saranno dei padiglioni più accoglienti più ospitali quest'anno l'associazione Car di Larino di Peppino Petriella ha deciso di organizzare i giorni sabato e domenica la rievocazione storica della fiera degli animali con personaggi in costume con i cibi dell'epoca e quindi è un momento culturale molto importante da mercoledì si potrà visitare la fiera che sarà sistemata al campo sportivo dalle 9 alle 13 e 30 e dalle 15 alle 22 sabato e domenica orario continuato dalle 9 alle 22 il costo del biglietto di ingresso è ormai invariato da diversi anni 2 euro grande sforzo quest'anno dell'Unicom per organizzare la fiera in pochi giorni il merito è delle società non solo dell'Unico ma di Pianeta Fiera dell'SFT cioè tutte quelle società che operano nel contesto perché ogni organizzazione è fatta da tante cose da tante aziende dagli specialisti che devono saper fare il lavoro molte volte come si dice Proverb non si è profeta in patria perché l'Unico lavora fuori fa l'artigianato fa fatto taranto fa questo lo fa in 3 giorni e lo fa in 20 giorni con la presentazione della 270esima edizione della fiera di ottobre di Larino termina l'ultima edizione del nostro telegiornale come sempre vi saluto e vi ringrazio per aver scelto l'informazione di Telemolise buonanotte e vi ringrazio per aver scelto